Lo strumento SetBuilder è utile nel cercare le combinazioni funzionali ed efficaci tra alimentatori e moduli LED. È anche uno strumento indispensabile per poter stimare i punti di lavoro dei moduli LED non presenti nella scheda tecnica. Il SetBuilder è online ed è raggiungibile direttamente dalla home page. La selezione dei componenti è completamente guidata. Si parte dalla scelta del modulo LED. È possibile utilizzare il menu con le varie categorie o inserire direttamente l'articolo. C'è anche la possibilità di selezionare un modulo generico dove si possono inserire i valori di corrente e tensione minima e massima. Una volta selezionato il modulo si devono inserire i dati relativi alle dimensioni, quantità, qualità della luce e configurazione elettrica in caso di più moduli. Nella terza schermata andrà selezionata la corrente di funzionamento e le temperature di lavoro. In alternativa è possibile inserire direttamente il valore di flusso target. Il sistema calcolerà il valore corrispondente di corrente. È anche possibile visualizzare la foto del prodotto e la scheda tecnica relativa. Una volta scelto l'articolo si va alla selezione dell'alimentatore. Qui sono già disponibili tutte le proposte compatibili, ma è possibile filtrarle andando a selezionare l'eventuale interfaccia di dimming, la necessità di tensioni self o la forma dell'alimentatore. Anche in questa schermata è possibile visionare la foto o la scheda tecnica. Possiamo quindi scaricare un file riassuntivo di tutte le proposte, oppure selezionare il driver scelto e proseguire con la visualizzazione della soluzione letter. Andremo così all'ultima schermata riassuntiva del set builder, con tutti i rimandi agli articoli selezionati. Se il driver è programmabile, potremmo accedere direttamente al link del device generator. Con i link sottostanti, saremo in grado di inviare i risultati via mail, stampare la pagina in PDF o aggiungere gli articoli direttamente all'e-shop, nel caso fosse disponibile l'accesso.